La proprietà del Foggia Calcio resta in silenzio con un giustificato sentimento di sgomento e rabbia per quello che sta accadendo addosso al Foggia. Forse anche in attesa che si celebri il processo federale di primo grado, fissato il prossimo 22 giugno, che potrebbe infliggere un'altra ammazzata al club di viaggio aberti. Qualcosa però nel frattempo lo ha detto il direttore Luca Nemberi in un incontro ottenuto con alcuni rappresentanti della tifoseria. State tranquilli, ha precisato il DS Lombardo, ormai tutto fare in casa rossa nera, pagheremo quel che c'è da pagare, la situazione è meno grave di quel che sembra. State tranquilli ma preparatevi ad una stagione difficile. Nel processo sportivo ci aspettiamo in primo grado una penalizzazione pesante che noi speriamo di ridurre poi nei gradi successivi. Stroppa non è sicuro che resti, statici però sempre accanto, ma siate tranquilli, ha concluso Nemberi. Parole chiare che però sarebbe stato meglio lanciare nell'orbita del popolo rosso nero, secondo noi, attraverso quella conferenza stampa attesa da tempo, magari anche con la contemporanea presenza del patron Franco Sannella, che avrebbe dato il crisma dell'ufficialità ad un messaggio che tutto il calcio foggiano attendeva ed attende per renderlo consapevole del momento.